mi chiamo petroselli urbano e ho 60 anni adesso lavoro questo tipo di lavoro ho iniziato nel 97 ho fatto prima un corso forse è stato l'unico corso in italia per costruttori di clavicembali e da lì dopo il corso ho preso in mano io l'attività e l'ho totalmente destinata alla costruzione di clavicembali fortepiani tutti strumenti diciamo dal dal cinquecento fino all'ottocento che si usavano a tastiera più o meno per farne due ci vuole un anno questo modello qui un modello del 1795 viennese i costi vanno dal più piccolo che una spinetta parte dai 5.000 fino ad arrivare a 27 28 mila euro e io mi rifaccio a dei strumenti che esistenti nei musei quindi io acquisto il progetto di quello di quello strumento che magari ha fatto un restauratore e lo riproduco come l'originale cosa più importante la tavola armonica insomma deve essere un legno a della val di fiemme insomma a bete rosso e anche vanno ad incidere sul suono dello strumento la scelta dei materiali il fortepiano è stato riscoperto da poco forse da da 15 anni prima insomma non si suonava tutto anche la musica antica si suonava su quello su uno strumento moderno